Malgrado gli esiti negativi delle analisi strutturali che dichiarano in maniera inequivocabile la struttura scolastica Antonio Mendola di Favara inagibile, l'intero corpo insegnante si dichiara indignato e pronto a far valere le sue ragioni. Per questo motivo, questo pomeriggio una delegazione di insegnanti, presidente del Consiglio d'Istituto e le presi della scuola, sono riunite nel presso scolastico della Don Bosco. Chiedono innanzitutto quale sarà il futuro degli alunni, se saranno costretti ad essere suddivisi in tre strutture diverse, ossia quelli messi a disposizione dall'amministrazione comunale che ricordiamo essere il presso di via Sant'Angelo, quello di via Capitano Callea e di via De Gasperi. Docente Sanfilippo, è arrivata la notizia che la scuola Mendola, che tra l'altro porta il nome di un nostro illustre concittadino, dovrà chiudere. La sua considerazione è quella dei suoi colleghi. Io nell'avere preso ieri la decisione della chiusura ufficiale della scuola media Antonio Mendola ho avvisato subito dentro di me un senso di disagio e di tristezza. Condiviso oggi pomeriggio con i miei docenti, con la dirigente e con le famiglie. È triste prendere atto di una realtà così bella e prestigiosa come poteva essere il plesso di via De Mille e sapere che per lei non c'è più niente da fare. Fino a ieri abbiamo sperato che le cose si potessero sistemare, perché il nostro desiderio, il nostro grande desiderio era solo quello di fare scuola in quella che noi consideriamo la nostra scuola. Noi oggi siamo qui solo per manifestare il nostro dispiacere e il nostro sentirci lasciati soli. Ci sentiamo soli in questo grande momento di sconforto. Professoressa, lei sa che l'amministrazione comunale aveva identificato tre strutture in cui poter fare lezione. Lei, in quanto facente parte del corpo docente, è d'accordo con le decisioni del sindaco? Io penso che questo spetti alla nostra dirigente prendere le decisioni. Noi come docenti siamo degli educatori e faremo tutto il possibile affinché la nostra opera educativa possa continuare ad essere svolta in modo dignitoso. Saranno le famiglie insieme alla dirigente e all'amministrazione a decidere il meglio per i nostri alunni. La signora Emberga Massunta, presidente del consiglio scolastico, anche lei sta subendo come i docenti il disagio della chiusura della scuola Antonio Mendola. Ha notizie, ha i suoi commenti sull'accaduto? Allora, fino a ieri sera il sindaco ha detto che sta provvedendo per i treplessi. Da stamattina dovevano fare il trasloco che mi hanno detto che ancora non si è verificato. Quindi lei praticamente crede che si perderà ancora più tempo per far riprendere le lezioni agli alunni? Gli alunni non vogliono fare più il doppio turno e i genitori nemmeno perché sono stanchi. Se lei potesse dare un consiglio all'amministrazione comunale su come poter sistemare questa faccenda perché naturalmente la preoccupazione principale è per gli alunni che devono comunque continuare gli studi. Cosa vorrebbe dire? Innanzitutto mettere tutta la scuola in un unico edificio, non in treplessi perché non è una scuola e farlo subito in tempi celeri. Solo questo. Speriamo che finora non abbiamo avuto nessuna risposta. Da riconoscere all'amministrazione comunale di aver fatto quello che ha potuto per trovare una soluzione alternativa. Ma adesso comunque deve continuare a tenere alta l'attenzione affinché si possa risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Bisogna farlo per il bene soprattutto dei giovani alunni assicurando loro il diritto allo studio. Intanto per domani mattina è previsto un settino di protesta davanti al municipio di Piazza Cavour. È una situazione tragica che condividiamo con le famiglie e condividiamo anche con questi ragazzini. Noi siamo davvero amareggiati perché avremmo voluto iniziare bene l'anno scolastico. La mendola merita di più, molto di più. Un nome che noi rischiamo di perdere, nel tempo rischiamo di perderla. Noi siamo in una struttura, una struttura dell'aula mediale dove senza bisogno di commenti possiamo vedere che tipo di attività i ragazzi perderanno quest'anno. Non abbiamo dove portare quest'aula multimediale. Secondo il progetto del Comune noi dovremmo andare a destra a manca a coprire qualche classe del seminario, del Sant'Angelo oppure del Centesimo. I ragazzi non troveranno quello che hanno trovato, quello che hanno avuto qua. Quello che c'è da fare a mio avviso è intanto recuperare questo padiglione dove siamo. Siamo nel padiglione B dove due anni fa ce l'hanno consegnato dopo una spesa di 550 mila euro. Nessun privato, io ripeto a tutti, nessun privato perderebbe questa somma, 550 mila euro spese, perché diversamente qualcuno la responsabilità se la dovrebbe prendere. e io dico che la prima cosa che c'è da fare è recuperare almeno questo padiglione, magari ingamiciando i pilastri e le stesse travi con strutture in ferro come hanno fatto con l'ospedale di Agrigento. Se non si investe sulla scuola, noi non abbiamo futuro. Già Favara diverse cose ha perso. Favara, detta di molti, non è che vive un momento facile, è un momento difficilissimo. E se noi non ne recuperiamo sulla scuola, noi abbiamo fallito come cittadini, come città, come pubblica amministrazione, come scuola. Io credo che i nostri figli meritano molto di più. Quello che chiediamo è un SOS. Noi abbiamo paura che questa struttura si perderà nel tempo.